Buongiorno fratelli nero, azzurri e nonna, bentornati sul canale del Bauscio Nero Blu, Sergio Saruggeri, ciao a tutti ragazzi e buona Pasquetta a tutti. Tra pochi minuti vi lascio in compagnia del mio amico Mauri, il mister, che come di consueto dopo ogni partita di campionato ci fa questi video, brevi ma molto ma molto dettagliati, dove va ad analizzare la partita in questo caso Bologna-Inter, sotto il punto di vista tattico, grazie a qualche SkyTech e a qualche ferma immagine ci va a spiegare come è stata la tattica di questa partita, cosa che a me piace molto, perché? Perché dopo aver visto questo video ci facciamo un attimino un'idea più dettagliata e più precisa se il tal giocatore veramente non ha giocato bene o semplicemente è andato a fare quello che il mister gli aveva chiesto. Ecco, parlo chiaramente in generale, ma dopo queste analisi iniziamo a capire un po' di più di quelli che sono i piani gara e andiamo a capire la prestazione della squadra. Perché? Perché non tutte le partite chiaramente si possono giocare all'attacco, soprattutto in questo periodo, il mister vuole i tre punti e magari una partita come quella di Bologna che non ha rubato agli occhi a molti di noi, però comunque dopo questo SkyTech se noi riusciamo a farci un'idea più precisa di quello che è stato il piano gara e come i ragazzi sono andati poi a svolgere tutti questi compiti preparati dal mister in allenamento. Ragazzi allora buona visione, mi raccomando andate a seguire Mauri il mister perché è un allenatore, non è uno youtuber e quindi guarda il calcio e ve lo racconta sotto questo punto di vista qua. Cosa che a me piace veramente molto, è una persona che poi è fantastica e mi piace da matti che venga sul nostro canale con questi contributi perché accresce a livello di contenuti, a livello esponenziale proprio il nostro canale. Ragazzi buona visione, ci vediamo questa sera ore 22 su per la live del lunedì. Ciao a tutti e vai Mauri! Buongiorno Sergio, auguri a te e a tutta la tua community, siamo qui per commentare questa vittoria dell'Inter vista dal punto di vista diciamo tecnico, quindi ho valutato più la fase difensiva perché credo che Conte l'abbia preparato proprio così. Qui siamo quindi in fase sia di possesso palla e non possesso palla, è cambiato poco perché l'Inter ha giocato con una linea molto stretta tra centro campo e difesa, a volte bassa, a volte medio bassa, però ha iniziato così e ha terminato così. Perché? Perché voleva evitare, come si vedono bene dalle frecce, gli inserimenti dei trequartisti, cioè il suo scopo era quello di annullare Soriano, poi tutto il resto era una conseguenza. L'unica marcatura che c'era a uomo quando la palla ce l'aveva era Soriano, infatti Soriano praticamente a parte un'azione è scompasso dal gioco, però tutti gli altri avevano libertà. E fin tanto che Tomiaso c'era in campo, l'Inter ha sofferto la fascia di Young, perché comunque Tomiaso è uno che marca, la fortuna dell'Inter è stata proprio l'infortuna di Tomiaso che è venuto a mezz'ora. Però l'Inter praticamente era messa bene, però ha chiesto un grande sacrificio ai centrocampisti, molto bassi, marcature uomo, i due centrocampisti che impostavano erano praticamente sempre bassi. Quindi Brozovic, Eriksen sempre vicini, l'unico che aveva un po' di libertà era Barella e i difensori molto vicini, per non far sì che Barro trovasse lo spazio. Vedete, erano occhi sempre con un occhio là, ma gli altri due sempre vicini. Questo almeno per la prima mezz'ora. E questo era quello che non voleva il mister, cioè di lasciare Soriano libero in mezzo e invece le due cerchi blu che avete visto erano liberi. Quindi era già calcolato che sugli esterni sia Kimi che Young sarebbero andati in difficoltà. In realtà in fase difensiva se la sono cavati bene tutti e due, magari ci si aspetta qualcosa di più di Kimi, ma se ti viene imposto di fare la fase difensiva devi impararla a fare e boh, quindi una partita molto sporta. Quindi il centrocampo è stato praticamente abbandonato a se stesso, proprio volutamente, facendo sì che Lautaro dovesse venire a tornare a prendersi il pallone o Lukaku a turno. Però il pallone al stesso tempo era molto forte perché adesso la slide purtroppo è passata veloce. Riusciva ad andare via molto velocemente anche attraverso l'altro giocatore forte che loro avevano, che è praticamente Scouten. L'azione del gol, la zona del gol, ripeto, è nata tutto appunto, si vede benissimo qua, dall'inserimento dei bastoni, nel momento in cui non c'era più Tomiaso, sono andati in difficoltà, non hanno saputo leggere bene le marcature. L'inserimento, l'unico inserimento che c'è stato da parte di bastoni che era libero da marcature ed è venuto fuori il gol. Poi l'Inter ha continuato a giocare sempre stretto a mezzocampo, no? E con lo Sky Tech che ci hanno fatto vedere ieri, proprio questa è l'immagine più bella, si capisce proprio l'Inter che era voluto, vedete, linee bassissime, molto vicine. Brozovic, Eriksen a fare i mediani davanti alla difesa. Barella a turno stava chiuso a centrocampo, però comunque aveva più libertà degli altri due e per quanto riguarda la costruzione era praticamente impossibile perché loro con la pattuglia dei trequartisti non ti impedivano di costruire un'azione con i centrocampisti che stavano così bassi. Questo ha fatto sì che Ranocchi ha fatto una bella partita, però legata anche al fatto che comunque Barron non ha ricevuto palla. Vignato è stato ben marcato perché, scusate, Sansone, perdonatemi, dell'absus, Sansone poteva mettere in difficoltà, infatti nel secondo tempo ha dato licenza a Sansone di inserirsi e vedete quanti giocatori portava in area il Bologna. Quindi dal punto di vista tattico è stata una partita di grande sacrificio ed impegno dei centrocampisti e dei difensori e soprattutto dei due esterni bassi che non hanno mai potuto spingere, quasi mai, e per quanto riguarda gli attaccanti dovevano alterrarsi e venire a prendere la palla. E qui, in una foto che ho pubblicato, si vede proprio Lautaro che è il giocatore che praticamente ha fatto questo lavoro sporco. Poi, con i cambi che sono stati fatti, sono entrate una punta esterna per quanto riguarda il Bologna che ha messo in difficoltà tutta la fascia. A quel punto il mister ha fatto la contromossa e ha messo Sanchez e, guardate, lo ha evidenziato, a fare proprio il centrocampista vicino a Brozovic che è andato un po' in difficoltà perché avendo sempre Eriksen vicino aveva comunque un uomo in più. Andando via Eriksen diventava lui l'uomo da impostare. A quel punto è stato bravo il mister a metterlo Sanchez e guardate al sottottottesimo l'Inter come era ancora stretto nelle linee. Quindi complimenti, voluta la partita bassa così, partita molto sporca però, tatticamente, è stata proprio decisa di giocarla così. Buongiorno a tutti.